Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Questa che stiamo celebrando è la diciassettesima domenica del tempo ordinario. Abbiamo visto domenica scorsa la preoccupazione di Gesù di fronte alla folla che lo seguiva e che erano come pecore senza pastore. E lui è il pastore, cioè lui è quello che si prende cura. Infatti il brano di Vangelo che oggi ascoltiamo questa volta è preso proprio dal Vangelo di Giovanni. Gesù si preoccupa di questa folla che ha fame. Ma previene, non aspetta che qualcuno gli chieda abbiamo fame. Lui già pensa al problema. Questa gente che ha seguito Gesù, che è andato lì, dietro a lui ha bisogno di qualcosa di essenziale, che è il cibo. Quindi c'è una fame materiale, cioè il mangiare. Ed è un problema attualissimo perché ci sono milioni e milioni di persone che ancora oggi si trovano nella difficoltà di mangiare. Ecco il problema. Qual è il senso di questa fame? È la nostra limitatezza. Cioè gli uomini siamo limitati e abbiamo bisogno degli altri. Quindi c'è il rischio di una dipendenza dagli altri. Il problema è di vedere come tutto questo si deve realizzare. E' vero che siamo gli uni legati agli altri. Ma come deve avvenire questo legame gli uni con gli altri? Ecco. E allora vediamo un po' le letture. La prima lettura è presa dal racconto di Eliseo, dal libro dei Re. Perché c'è una persona che deve portare dei pani, 20 pani di orzo e altri cereali e li porta come dono al Signore. E li porta al profeta Eliseo. Eliseo dice, dalle alla gente. Ecco, questi pani sono quello che tu devi a Dio per ringraziarlo, ma tu dalle alla gente, dalle persone e mangiare. E' quello che Gesù compie nel Vangelo. Gesù chiede ai suoi discepoli che cosa si deve fare per questa gente. Date voi da mangiare. Date voi da mangiare. Questi dicono, ma noi non ce la facciamo. Come facciamo? Secondo un ragionamento puramente statistico, tecnico, non ci bastano 200 denari a comprare pane per queste migliaia, migliaia di persone. E allora che fare? Stiamo lì a guardare, aspettare, a non fare nulla. E Gesù vuole la collaborazione. E dà una ricetta. Se vogliamo risolvere i problemi, che non sono solo problemi sociali, di fame, eccetera, perché questo è il primo punto di partenza, ma anche il problema di una fame più profonda, che è la fame di qualcosa che andiamo cercando. Perché noi non cerchiamo solo di mangiare, ma abbiamo bisogno di qualche altra cosa. Anche quelli che hanno già mangiato e si sono saziati vanno alla ricerca di che cosa. Ecco, perché poi ci troviamo di fronte a una ingiustizia profonda, perché alcuni seguono a tavola e altri stanno a guardare. Il mondo è fatto in questo modo. Ma è questa la soluzione? Dobbiamo rassegnarci al fatto che alcuni mangiano e alcuni stanno a guardare? Se i beni di questo mondo Dio li ha dati a tutti gli uomini? E allora, ecco, Gesù propone la condivisione. La condivisione, ecco, fateli sedere, ecco, si seguono e moltiplica. Un ragazzo porta cinque pani e due pesci. Ma che cosa sono questo per niente? Ma intanto tu li metti a disposizione, piccola cosa. Ma se ognuno mette a disposizione una piccola cosa, e allora avviene il miracolo. Il miracolo nasce dalla disponibilità a condividere. Perché se ognuno condivide qualcosa con l'altro, invece di restare nella logica dell'appropriazione, perché la corsa è questa, cioè ognuno cerca di appropriarsi per quello di cui ha bisogno e per quello di cui non ha bisogno. E c'è questa brama di appropriarsi, insomma. E allora uscire da questa logica dell'appropriarsi, ecco, ed entrare nella logica della condivisione. Capisco che non è di attualità quello che Gesù ci chiede. Gesù ci chiede questo cambiamento di paradigma, cioè questo cambiamento di orientamento della propria vita. Noi siamo tutti alla ricerca di arraffare tutto quello che possiamo arraffare. Non si spiegherebbe la corruzione, non si spiegherebbe tutto quello che accade, di cui ci lamentiamo. Ma ognuno invece nel suo piccolo cerca di prendere tutto quello che può. E non si accorge che invece quello che Gesù ci chiede è tutto il contrario. E' di dire che in che modo io posso condividere, condividere. La divisione è la cosa più difficile. Mentre le moltiplicazioni, le somme ci riescono facili, la divisione invece ci riesce difficile. E perciò Gesù parla della condivisione, dividere con. E allora se entriamo in questo modo non solo noi, ci dice Gesù, possiamo risolvere il problema della fame. La fame materiale. Ma risolviamo anche un problema interiore. C'è quella ricerca profonda di senso della vita. Il senso della vita è nell'appropriarsi di qualche cosa? O il senso della vita è nella condivisione di noi stessi? Non solo delle nostre cose, ma di noi stessi? Cioè questa dimensione dell'amore? E credo che sia questo quello che il Signore ci chiede. A noi cristiani. Ed è quello su cui sbagliamo tutti. Sbagliamo perché ci allontaniamo da quello che è il Signore. Perciò ecco io vorrei che la sovrabbondanza di cui parla il Vangelo. Mangiarono tutti e ne sovrabbondarono dodici ceste. Perché Gesù fa raccogliere tutto quello che era sovrabbondanza. Significa che c'è possibilità per tutti. C'è una possibilità che se gli uomini decidono con tutte le loro scienze, eccetera, non di impossessarsi ma di condividere, si può dare una risposta a tutti. E ripeto, è una risposta non solo di pane materiale, cioè di beni materiali che si vanno condivisi. Quello che noi chiamiamo il bene comune, comune, cioè che tocca tutti. E in modo che tutti possano sedersi nel prato, come dice qua il Vangelo, si sedettero tutti nel prato e mangiarono tutti insieme, senza distinzione, senza categorie sociali. Mangiarono. Cioè il pane unisce. Cioè questo pane unisce. L'appropriarsi invece, mettere gli uni contro gli altri, perché io cerco questo, e allora si creano i nemici. Ma il pane, il mangiare insieme, nella libertà, nel condividere, ecco la parola magica su cui dovremmo realmente lavorare molto, riflettere, ma non solo come parola, ma proprio come atteggiamento. Condividere. Allora dice Paolo, nel brano della lettera, ecco, che noi cerchiamo la pace, insomma, no? E comportiamoci, perché siamo tutti un solo corpo, un solo spirito, quindi non è solo un atteggiamento morale, un precetto, quello che io devo fare per condividere, ma diventa il fatto stesso di quella che è la nostra vocazione umana. perché se siamo tutti un solo corpo, un solo spirito, una sola fede, un solo Dio, un solo, un solo, tutto un solo, insomma, noi con tutti gli uomini che sono chiamati a vivere questa comunione di amore, ma che parte dalla giustizia, che parte dalla realizzazione della pace, e allora è chiaro che tutto questo condividere è la parola cristiana. Il condividere è una parola cristiana. Il dividere è un... Il dividere, cioè gli uomini, già di loro, ecco, metterli l'uno contro l'altro, ecco, nella paura che ognuno non ce la fa e quindi vede nell'altro il nemico, questa non è una parola cristiana. La parola cristiana è la condivisione. E allora prendiamo questo insegnamento del Signore e trasformiamolo poi nella realtà concreta del nostro vivere quotidiano. E vi auguro una bellissima domenica. Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Grazie. Grazie.